Si arricchisce anche di alte curiosità l'edizione straordinaria della giostra del Saracino dedicata al Giubileo della Misericordia. Sabato 27 agosto infatti tornerà in piazza lo storico araldo Gianfrancesco Chiericoni. Voce della giostra dal 28 agosto del 1976, Chiericoni ha rivoluzionato con il suo timbro e la sua cadenza in modo di raccontare il Saracino in tutte le sue fasi. Il figlio, Francesco Sebastiano Chiericoni, allievo del parle nonché araldo di grande spessore, si è unito con piacere al bentornato Gianfrancesco che anche la pagina Facebook della giostra del Saracino ha dedicato al padre. Cosa veramente bellissima, nel senso, vi voglio anche chiarire una cosa, in realtà il mio babbo ancora oggi è nominato, come tutti gli anni viene nominato, primo araldo, io sono sempre il vice, fino a quando non dovesse la magistratura decidere di nominare me come primo. Poi dopo la faccio io, la giostra, come dice direttamente, perché per motivi di salute il mio babbo ancora non è in condizioni di poter sostenere due, tre giostre, poi tutte le cose collaterali come la restazione di carriere. Però è partita da lontano questa cosa dicendo, la istituzione chiedendo a mio babbo, sarebbe bellissimo che se fisicamente ce la fai, quella del 27 agosto, che è straordinaria, tu la facessi te. E ripeto, essendo nominato come araldo, ci mancherebbe altro che rifiutarsi, è soltanto una questione fisica. Io l'ho caldeggiato tantissimo perché vi potete immaginare che per me, d'altra parte sono il figlio, quindi è un piacere anche per me. Poi è veramente simbolicamente bellissima questa cosa perché il mio babbo, penso che ormai sia già uscito nei giornali, ha esordito il 28 agosto del 76 e proprio il 27 agosto del 2016, fa un'altra giostra straordinaria a completamento di 40 anni di carriere. Poi io, forse per me le può fare anche tutte, mi parebbe piacere anche perché se non la fate e non le fai per motivi di salute nient'altro. Quindi ogni volta che io faccio la giostra so di farla sì per il ruolo che mi è stato dato in tutti questi anni, quindi di sostituto, però per motivi di salute.